ma io gesticolo anche al telefono cioè questa è la cosa tragica proprio non ce la faccio a non gesticolare è l'ultimo cuoricino che metto però lo dico più che altro scusate e niente questo è mi aspettavo molto peggio sei stata buona allora se ti puoi rispondere solo sì no o non lo so ok se la posso fare ma tu sotto sotto sei una gran marnazzi? no allora l'altra domanda mia è cosa significa gran marnazzi? però te lo voglio chiedere mettendo un sottofondo diverso dalle nostre facce però più sarà lunga la tua spiegazione più dovremo sopportare questa base vai ah va bene il simbolo di gran marnazzi anche di gran marnazzi Italia gran marnazzi è un pedante mediocre conoscitore della propria lingua madre che si arrocca sulle regole come se non ci fossero domani ecco perché si chiama nazista nazista non ha nessuna accezione positiva se ti piace l'italiano se ti piace la tua lingua madre e ci tieni che venga usata bene non sei un gran marnazzi ma sei un gran mamante come li chiamo io stop stai brava? applauso virtuale senti invece allora giro un pochino tu hai avuto mai in passato un vizio linguistico una parola che usavi spesso che poi ti sei accorta che qualcuno un tic linguistico un intercalare un intercalare esatto dai con te ce l'hai avuto no ce l'ho ce l'ho ancora ne ho due uno è in realtà e l'altro è di fatto e me l'hanno fatto notare i cattivissimi ascoltatori di Fahrenheit che ogni tanto sono andata da Loredana Lipperini e tutte le volte c'è qualcuno che dice in realtà e di fatto un po' troppe volte è vero però abbiate pietà perché quando si parla live ogni tanto come si può dire l'organizzazione del discorso richiede che ci sia un buffer no? cioè qualcosa che ti permette di pensarci un po' di più quindi i riempitivi sono naturali nessuno parla completamente senza riempitivi insomma ci vuole una grande esperienza e io non ce l'ho quindi quando ci penso poi mi freno e evito di dirlo in realtà è di fatto però ogni tanto mi scappa cioè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti